Gli studenti abruzzesi dovranno prepararsi allo zaino e tornare sui banchi il lunedì 16 settembre, tra poco meno di un mese, fino a 7 giugno 2025, che corrisponde all'ultimo giorno di lezioni. L'anno scolastico si apre tra le problematiche e le questioni di sempre, ma c'è anche il dibattito su un possibile inizio il primo ottobre, cosa che però al momento divide e non convince, ad esempio, più il sindacato Sdars Abruzzo, per bocca di Carlo Frascari, ne spiega le motivazioni. Molti dicono perché non cominciamo il primo ottobre come si faceva 40-50 anni fa, perché c'è il clima che è cambiato, eccetera. Ci possono essere dei pro e dei contro, ma una cosa è sicura, se noi dobbiamo rispettare le attuali norme, aprendo il primo ottobre dovremmo chiudere alla fine di giugno. Come si fa? Perché se noi diminuiamo di 15 giorni, riaprendo i primi di ottobre, il periodo scolastico, questi 15 giorni vanno recuperati stando alla legge che obbliga comunque le regioni a stabilire il numero minimo. Allora dovremmo chiudere poi il 25 giugno, 27 giugno. Con questo andrebbero a slittare sia gli esami di stato del primo ciclo, cioè della scuola secondaria di primo grado, sia gli esami di stato della secondaria superiore. A me pare una cosa molto complessa e difficile, a meno che non si voglia stabilire che i giorni complessivi annuali vanno a ridursi. Allora si può fare, certo, perché il problema del clima esiste. Rimane però un'altra questione, perché se parliamo di aule calde, il disagio esiste da giugno, non è che ci sono, anzi, forse a giugno è di più che a settembre. Quindi è un ragionamento, secondo me, che adesso lascerà il tempo che trova, perché ci sono una serie di incastri che andrebbero trovati, quindi non lo so. A me pare che se ne parlerà 15-20 giorni e poi non se ne parlerà più. Lo Stats chiede inoltre un tavolo regionale per discutere dei tanti problemi della scuola, che però deve vedere presenti tutte le parti in causa. Perché a livello regionale, diciamo, gli organici, come in tutta Italia, sono rimasti bloccati, almeno per quest'anno ancora, nonostante la riduzione del numero di alunni. Noi soffriamo di questa riduzione, come le altre regioni e anche più percentualmente delle altre, ormai da dieci anni. Abbiamo perso già circa 25 mila alunni negli ultimi decenni e il trend continua. Quest'anno è lo stesso, 2000-2005 ogni anno. E se fosse così, anche nel prossimo decennio, bisogna riguardare un po' tutto il sistema. La prima cosa da riguardare è la dimensione scolastica, cioè tutta la rete scolastica regionale deve tener conto di questo, sia nella prospettiva dell'unificazione dei vari istituti, sia nella costruzione anche degli edifici scolastici, perché non vorremmo nemmeno che andiamo a costruire edifici che poi non verranno frequentati, perché mancheranno gli alunni. Ma è un complesso di questioni che riguarda i trasporti, che riguarda le mensa, per cui secondo me il nostro consiglio all'amministrazione regionale politica è quello di fare un tavolo generale sulla scuola.